salve amici siccome qui il tempo non permette per andare a pesca per uscire in kayak allora facciamo una piccola modifica mi piaceva tanto il sistema hobby mi sembra che sia sulla hobby il pro angle che ha i braccioli con delle tasche porta oggetti e allora mi sono inventato questa cosa inventato mi è voluto in mente questa cosa da fare anche sul mio triken 405 quindi ho messo questi tubi in acciaio zincato con delle curve 90 attaccato con delle fascette alla seduta da quest'altra parte ho messo se si riesce a vedere piccolo rinforzo sempre sul montante della seduta senza affurare il sedile e bene le tasche porta oggetti porta cassettine stessa cosa data parte questo è l'altro lato questa è un pochino più grande una profondità di circa 35 centimetri stesso sistema e diciamo che spazio non abbiamo a sufficienza una seduta questa risulta rialzata quindi abbiamo tanto spazio sotto permette artificiali anche qua nelle tasche laterali non è contento del lavoro del lavoretto messo dentro le cassettine ci stanno alla perfezione un'altra cassettina sotto e come vi dicevo spazio ce n'è a sufficienza cassettina dall'altra parte bene soddisfatto se il video vi è piaciuto ragazzi lasciate pure un like se avete qualche domanda qualche qualche informazione qualcosa che volete chiedermi scrivetelo pure nei commenti a presto